Buongiorno Fernando, benvenuto, sono Giuseppe Leanza, tra Boca Juniors e Real Madrid, se tu sei un grande centrocampista talentuoso, tu hai segnato davvero molto poco in carriera, voglio sapere il motivo e se pensi di avere la possibilità di alzare un po' il tiro qui nel nostro campionato e con la Roma appunto. Come tu hai giocato in grandi club come il Boca Juniors e Real Madrid, però marcaste pocchi gols, perché pensi che fosse così? No, per lì è la posizione che io uso nel campo, perché in Boca poi giocano un po' più retrasato e in Madrid ugual, trattava di dare un po' più equilibrio, di trattava di fare le relevo e per lì è poco la legata che ha il arco, ma ovviamente sono tutte cose che sumano e bisogna migliorarlas, sono le opportunità che devo avere e trattava di marcare il gol. Dice, beh, sostanzialmente dipende da quella che era la mia posizione in campo, tanto nel Boca Juniors e Real Madrid ho giocato in una posizione più arretrata, dovevo soprattutto così raddoppiare, dare più equilibrio alla squadra e quindi avevo un modo di inserirmi poco verso la porta. In ogni caso questo è uno degli aspetti, come dicevo prima, che si può migliorare e spero di riuscirci qui.